Anestetico Urbano è un progetto nato dalla semplice idea di creare un magazine che promuovesse l'operato di artisti della scena underground locale e internazionale, ponendo particolare attenzione alle produzioni votate alla multiculturalità, inclusività ed ecosostenibilità, quali veicoli di confronto e diffusione della cultura. Mentre il magazine prendeva corpo, Anestetico Urbano si è evoluto in un progetto più articolato, capace di coinvolgere il pubblico in maniera diretta. Così abbiamo deciso di portare l'arte nelle strade, appropriandoci degli spazi generalmente dedicati alla pubblicità, tramutandoli in vetrine attraverso le quali è possibile dare spazio a contenuti normalmente scomodi o difficili da esibire. Dal 9 al 22 marzo Explicit Change sarà presente fra le strade di Bitonto come esposizione urbana, sostenuta dal comune e dal sindaco a Baticchio e porterà fra le strade le opere dell'artista barese Margherita Ragno. Questa prima mostra, inaugurata proprio in occasione del periodo dell'anno dedicato alle donne, decide di celebrare il femminino e femminile come concetti assoluti, oltre i generi, l'età e i rigidi canoni formali di bellezza. L'esposizione di repliche digitali di queste opere all'interno di spazi pubblicitari renderà fruibile l'arte delle strade, offrendo la possibilità di godere di un museo a cielo aperto che evita assembramenti, restando disponibile per i piccoli spostamenti quotidiani nel centro cittadino. Inoltre ad ogni opera è associato un QR code che permette di ascoltare brevi stragi di interviste a donne che si sono rese protagoniste di cambiamenti sociali, culturali e politici.